Io mi fermavo lì alla SEM, lì in un angolo, perché soldi da mangiare non ne avevo, arrivavo in bici o a piedi col treno, e il bello di quell'ambiente lì della Grigna erano gli alpinisti, i grandi alpinisti, e loro mi hanno visto lì in un angolo e mi hanno detto, siediti lì biondino con noi, e io li guardavo, erano tra i migliori alpinisti d'Italia. La domenica dopo sono andato là in bici, sono in Piano dei Reginelli, e senza corda cominciavo a fare qualcosina in cornasiera così, e allora andando su verso i magnai ho incontrato, mi è arrivato indietro, io ho incontrato tre persone, e io li ho conosciuti un po' di vista così, quelle tre persone mi hanno detto, cosa fai il giro biondino, perché me ne ho conosciuto, e io vado a fare quattro passi, e mi hanno detto vieni con noi, e quelle tre persone erano Riccardo Cassin, Walter Bonanti e Carlo Mauri, e quella lì è la prima volta che ho arrampicato in Grigna, per me è stato un onore.